Ciao ragazzi, oggi voglio parlarvi della corretta esecuzione del diretto sinistro e destro nella MMA Muay Thai Scuola Tarandevac. Io sono Stefano Ardi, istruttore di Muay Thai tradizionale Krabi Krabong e benvenuti nel mio canale YouTube. Pugno diretto sinistro e destro è uno dei colpi principali appunto della MMA Muay Thai Scuola Tarandevac, ma non è di facile esecuzione e per impararlo spartiamo sempre da una posizione statica nella nostra posizione di guardia. Quindi troviamo la nostra posizione di guardia, ginocchiati, punta del piede, stessa linea del ginocchio, questa posizione uguale a questa, da questa posizione andiamo su, posizione Sam Lya in guardia. Da qui facciamo un cambio sul posto e contemporaneamente allunghiamo il pugno sinistro, così. Potete notare il mento viene protetto dalla spalla e l'altra mano a protezione della faccia. Da questa posizione spingo e allungo il braccio destro. Eseguiamo una forte torsione appunto del busto, quindi il mio busto deve guardare il muro, allungandoci bene. Da qua cambio sul posto ancora e parte sinistro. destra, sinistro. Quindi la nostra posizione Sam Lya, sinistro, ma qua parte a destra, sinistro, destra. Ricordatevi sempre quando tiro il colpo fare il cambio sul posto per dare forza al colpo appunto che va a tirare. Non è questo, perché questa non ha forza perché viene bloccata sulle spalle, ma sapete che la forza del colpo appunto è data dal movimento delle gambe in sinergia con le gambe, con le anche. Quindi da qui, uno, due. Attenti quando facciamo il cambio sul posto, tiriamo il diretto sinistro, non andare indietro col busto, ma sempre con il baricentro al centro appunto del nostro triangolo e il peso bilanciato da tutti e due le gambe, quindi il 50% da una parte, 50% dell'altra. Il polso deve sempre restare allineato all'avambraccio, non questo, è sbagliato, ci spezziamo, ma questo, sempre allineato. E' importante, l'altra mano, quella che va a proteggere la faccia, quindi una tira e l'altra protezione. Non dobbiamo fare questo, perché altrimenti siamo sempre scoperti, ma questo, uno, coperto, due, coperto. Allungo bene il mento, vedete, protetto dalla spalla. Un altro fattore importante è appunto eseguire una leggera torsione del movimento. Non è un movimento dritto, così, ma è un movimento quasi liquidale. Questo serve proprio a dare la direzione al colpo e anche a forza. Non è un movimento semplice, perché viene combinata la parte alta e bassa del corpo e richiede una forte coordinazione. Vi consiglio sempre appunto di provare questi movimenti da prima a vuoto, davanti a uno specchio, possibilmente, così avete subito la percezione se fate giusto o sbagliato il movimento. Successivamente provare a inserirlo l'esercizio su dei coi pittori oppure con l'assaco e poi, pian piano, appunto, inserirli nelle tecniche di difesa, di offesa, sempre del MMA Muay Thai, in scuola Taran Deva. Se avete domande, vi consiglio sempre di contattarmi tramite i miei social, Facebook, Instagram, qui su YouTube, scrivendo nei commenti. Cercherò di rispondere a tutti. Vi ricordo sempre di attivare la campanella, così che ogni volta che caricherò un video, vi arriverà una notifica. Vi ricordo anche di visitare sempre il mio sito internet www.stefanoardi.it Ciao, buon allenamento!